Musiche, musica e mito nelle immagini del Museo di Gela. L'iniziativa che porta la firma del quarto circolo didattico Luigi Capuana, diretto da Cetta Mongelli, si è svolta ieri al Teatro Comunale Eschilo. Entusiasti i docenti e i genitori degli alunni. Sul palco gli studenti delle classi quarte e delle sezioni E ed F, che sono stati coordinati dagli insegnanti Marianna Di Rocco, Lorella Lidestri, Giusi Riccobene ed Angela Romano. Direttore d'orchestra, il maestro Giuseppe Vacca. Presidente, lei ha voluto fortemente questa manifestazione che ha richiamato l'attenzione del pubblico presente a dimostrazione del fatto che quando vuole, la scuola, assieme alla cultura, dà una grande linfa alla città. Quando vuole, la scuola insieme ai genitori. La scuola proprio nel suo complesso. Intendo la scuola dirigente, uffici di segreteria, docenti che lavorano fortissimamente e i genitori che hanno contribuito tantissimo a questo lavoro. È un lavoro inserito nel tempo scuola, attuato in orario pomeridiano. Sono i nostri bambini mini guida, la conoscenza del territorio. Io conosco, amo e quindi hanno lavorato tantissimo sui miti che vengono, miti greci, che vengono fuori a conoscenza attraverso le immagini vascolari del nostro museo.